Buongiorno e bentrovati con l'edizione del mattino del TGL News. Ieri prima domenica di sole estivo e prima giornata di grande traffico sulle strade che conducono alle nostre colline. Tantissimi motociclisti che hanno preso d'assalto i principali itinerari che i centauri percorrono ogni fine settimana purtroppo sono stati diversi gli incidenti e gli interventi degli operatori di soccorso tra Corte Brugnatella e località Bellaria di Rivergaro. Infatti almeno quattro scontri che hanno visto coinvolte due ruote in due casi. Purtroppo le condizioni dei feriti sono particolarmente gravi. Il più preoccupante è accaduto nel pomeriggio lungo la provinciale 461 che conduce al passo Penice. Un motociclista ha perso il controllo della sua vettura ed è caduto sull'asfalto nei pressi di Vaccarezza. Le sue condizioni sono molto gravi e l'isoccorso lo ha condotto all'ospedale di Parma. Rimaniamo sulla cronaca. È stata salvata da un coraggioso anziano che non ha esitato a brandire il suo bastone nei confronti di tre malviventi che hanno aggredito una ragazza in via Raffalda a Piacenza. Stando a quanto la giovane ha raccontato alla polizia venerdì pomeriggio stava rientrando a casa quando è stata assalita da due donne. La giovane è riuscita a fuggire e a divincolarsi ma le ha sballerato la strada una grossa auto dalla quale è scesa un uomo. La 25enne è di nuovo fuggita e ad aiutarla solo un anziano che ha alzato il suo bastone roteandolo in aria in segno di minaccia nei confronti delle due donne. Un intervento che fortunatamente ha funzionato nel caso si stanno occupando gli agenti di polizia. Cambiamo argomento. Come sempre partecipata e ricca di emozioni la giornata del 2 giugno è stata celebrata anche nella nostra città alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose. Particolarmente emozionante il lungo discorso del prefetto Maurizio Falco in Piazza Cavalli. Nel tanto pomeriggio invece in prefettura sono stati consegnati le onerificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, oltre alle medaglie d'onore per i cittadini deportati nei lager nazisti e i familiari dei deceduti. Tantissimi gli ospiti con numerosi sindaci che sono intervenuti nel corso di un appuntamento particolarmente affollato. Cuidiamo con lo sport. Il Piacenza Calcio supera l'ostacolo imolese. Vola in semifinale playoff dove ci sarà il trapani di Togordo, dell'ex ovviamente Togordo, ad attendere i biancorossi nel doppio confronto che vale la Serie B. Algarilli, Fumagalli e compagni ieri sono stati piegati per 2-1 nel finale di gara da un rigore di Giovinco ma il successo per 2-0 dell'andata regala ai Piacentini la Prodo all'ultimo atto in programma sabato prossimo, la gara di andata. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15. Buona mattinata a tutti e buona settimana a tutti. Grazie a tutti e buona settimana a tutti.